Nel pannello di gestione è integrato un tool di eMapSync che permette di migrare le caselle e-mail del tuo dominio dal server attuale al sistema di posta elettronica di Aruba Business. Cerchiamo dalla dashboard il dominio e nella scheda Servizio clicchiamo su Richiedi migrazione delle e-mail. Il pannello richiede che venga uploadato un file CSV di cui è possibile scaricare un esempio che contiene l'elenco delle caselle e-mail, le password, l'indirizzo del server di posta sorgente. Dopo aver effettuato l'upload è possibile indicare al sistema quando far partire la sincronizzazione. Il tool permette di creare le caselle sul sistema e-mail di Aruba Business. Non è necessario quindi ricrearle prima. Per ogni casella il tool ricrea la struttura ad albero delle cartelle ed importa i relativi contenuti. La durata del sync è variabile da pochi minuti ad alcune ore a seconda della quantità di dati da trasportare e del numero di e-mail presenti nelle caselle. Al termine del sync viene restituito un report dell'attività. È importante ricordare che il tool può essere rilanciato più volte, quindi dopo il cambio di registrar o il giro del DNS è possibile rilanciarlo nuovamente per effettuare un'ultima sincronizzazione. Questa sarà più veloce della prima, in quanto effettuerà un incrementale.